il gelataio tirelli giusto tra le nazioni francesco tirelli amava così tanto il gelato che almeno una volta al giorno trovava una scusa per passare davanti al carretto dei gelati di suo zio lo zio carlo adorava il nipote ogni volta che francesco andava a trovarlo gli dava un pizzicotto sulla guancia destra e un bacio sulla guancia sinistra poi lo sollevava così in alto che da lassù francesco poteva vedere tutti i gusti nei cestelli poi lo zio lo rimetteva giù e gli domandava nocciola o limone fragola o cannella cioccolato o crema francesco con un sorrisetto rispondeva sempre lo stesso modo che ordine non importa la scena si ripeteva uguale quasi ogni giorno una volta mamma emma disse a francesco basta finirà per crescerti una gelateria nella pancia francesco la guardò in silenzio ci pensò un attimo e poi fece un gran sorriso francesco continuò ad amare il gelato anche da ragazzino e persino da adulto quando fu grande si trasferì in un paese lontano l'ungheria e con sé portò la stessa passione per coni e coppette ma a budapest la capitale non riusciva a trovare un gelato buono come quello dello zio carlo peccato pensava tra sé che non mi sia cresciuta davvero una gelateria nella pancia come diceva mamma emma se fosse successo avrei potuto mangiare il gelato in qualsiasi posto al mondo pensava al gelato così intensamente che un giorno accadde davvero invece che nella pancia però la gelateria gli crebbe nella mente non riusciva a smettere di pensarci gli riempiva tutta la testa francesco sapeva che se non avesse aperto al più presto una gelateria quel pensiero non lo avrebbe mai abbandonato una gelateria gli dicevano tutti qui non siamo in italia questa non è roma non è venezia e neppure firenze siamo a budapest puoi aprire un negozio che vende piatti tipici dell'europa orientale ma il gelato chi comprerà il tuo gelato ma francesco tirelli non si arrese aprì una gelateria proprio al centro di budapest e vendette gelati e cioccolato a tutti anche a chi aveva detto che nessuno gli avrebbe comprati francesco pensava tra sé le madri hanno sempre ragione alla fine mi è cresciuta davvero una gelateria nella pancia e nella testa proprio come aveva previsto mamma emma a budapest c'erano anche tanti bambini che adoravano il suo gelato uno di questi bambini era peter amava così tanto il gelato che ogni giorno trovava una scusa per passare davanti al negozio di francesco tirelli a volte ordinava un cono a volte entrava soltanto a volte dava una sbirciatina da fuori francesco l'osservava dall'interno del negozio e gli sorrideva strizzandogli l'occhio sinistro ma più di tutto a peter piaceva sentire francesco che gli chiedeva nocciola o limone fragola o cannella cioccolato o crema e a peter con un sorrisetto piaceva rispondere che ordine non importa a questa risposta francesco sorrideva e gli serviva palline di gelato più grandi del solito un giorno mamma lili disse a peter basta finirai per vivere dentro la gelateria passarono gli anni peter non era più un bambino era diventato un ragazzo e anche budapest era cambiata le persone non erano allegri come prima c'era la guerra e tutti avevano paura nessuno aveva voglia di comprare gelati persino peter non andava un giorno era inverno vide francesco che chiudeva il negozio chissà gli disse peter forse in estate tutto cambierà e la gente ricomincerà a mangiare il gelato i due si scambiarono un sorriso triste francesco odiava la guerra ed era anche un po preoccupato cosa sarebbe successo all'ungheria all'italia e a tutte le persone che conosceva e amava lui comunque aveva meno paura rispetto ad altri era italiano e gli ungheresi rispettavano gli italiani gli italiani e gli ungheresi non combattevano l'uno contro l'altro la famiglia di peter invece aveva paura molta paura erano ebrei e in ungheria come nella vicina germania non li volevano più sebbene non combattessero e non facessero male a nessuno ma dove potevano nascondersi chi avrebbe accettato di tenerli al riparo intanto anche francesco tirelli pensava tra sé e sé io sono italiano non devo temere qui sono amato ma che ne sarà dei miei vicini cosa accadrà alla famiglia di peter e alle famiglie degli altri bambini qualcuno deve aiutarli bisogna cercare un rifugio trovargli un nascondiglio qualcuno ci sono penso francesco la mia gelateria gli aiuterò io io sono quel qualcuno è inverno fa freddo in inverno non vendo gelati con prudenza francesco cercò di parlarne con gli amici rispondevano tutti nascondere ebrei nella gelateria è molto pericoloso non è proprio una cosa sensata da fare e poi loro non sono dei nostri non sono neanche di qua francesco li guardava meditava in silenzio e sorrideva amaramente ma zitto zitto senza rivelare niente a nessuno cominciò a invitare gli ebrei nel suo negozio e trovò anche altri nascondigli organizzava piani si informava mandava emissari e spediva bigliettini anche il papà e la mamma di peter ricevettero uno di questi biglietti c'era scritto un indirizzo capirono immediatamente quell'indirizzo riportava alla memoria sapori particolari di fragola e cannella cioccolato e crema pian piano gli ebrei si radunarono nel negozio arrivò peter con suo padre e sua madre giunse una coppia di vicini che abitava dall'altra parte della strada vennero amici della sinagoga arrivarono anche una bimba di nome anna e sua madre francesco le riconobbe e si ricordò che prima della guerra andavano sempre in gelateria per comprare il gelato alla fragola continuava ad arrivare gente francesco si prendeva cura di tutti portava loro cibo e acqua e anche i giornali perché sapessero cosa stava succedendo fuori da lì grazie gli dicevano commossi grazie dicevano i genitori di peter peter pensava tra sé alla fine sono davvero venuto a vivere nella gelateria proprio come diceva mamma lili e francesco francesco li osservava in silenzio e sorrideva era così felice di poter dare loro una mano per lunghi giorni peter suo padre e sua madre insieme ad altri ebrei rimasero nascosti nel retro bottega della gelateria chiusa di francesco tirelli fuori nevicava pioveva la guerra infuriava ma dentro il negozio erano al sicuro i giorni passavano uno dietro l'altro e all'improvviso arrivò il mese di kislev annucca la festa delle luci si avvicinava ma le persone nascoste nel negozio non erano felici e annucca pensavano ma non siamo a casa non siamo felici nella luce ma seduti al buio nascosti la donna che abitava dall'altra parte della strada disse forse possiamo provare lo stesso forse troveremo il modo di accendere le candele anna le rivolse uno sguardo pieno di speranza un amico della sinagoga ricordò di aver visto da qualche parte una bottiglia con un po di olio per cucinare peter sperava tanto che ci sarebbero riusciti che qualcuno avrebbe trovato anche la annucca il candelabro rituale che qualcuno io sarò quel qualcuno decise peter io troverò la annucca ma dove uscire era pericoloso nel negozio c'erano tazze e cucchiaini il frigorifero c'erano bottigliette con sciroppi gustosi ma la annucca non c'era peter non si diede per vinto entrò nel negozio e nel magazzino cercò rovistò tastò guardò a destra e a manca più volte e alla fine trovò quello che cercava la annucca no uno stampo uno stampo per preparare il cioccolato si versava caldo nelle forme e si tirava fuori quando si era solidificato peter lo guardò e annusò l'aroma delizioso che emanava poteva quasi sentirlo sulla punta della lingua era passato così tanto tempo dall'ultima volta che aveva mangiato cioccolato gelato al cioccolato o anche solo qualcosa che fosse semplicemente ricoperto di cioccolato ma adesso nello stampo il cioccolato non c'era c'erano solo le forme vuote peter cominciò a raccontarle e per un attimo pensò di sognare contò di nuovo non poteva crederci lo stampo aveva proprio otto forme concave e così quell'anno un annucchià che sapeva di cioccolato fu accesa dentro una gelateria nel cuore di una budapest fredda e buia e ciascuno pregò nella speranza che con l'estate tutto sarebbe cambiato passò l'inverno e in primavera finalmente la guerra finì peter anna e le loro famiglie i vicini che abitavano dall'altra parte della strada e gli amici della sinagoga lasciarono la gelateria e piano piano provarono a tornare alla loro vita di tutti i giorni e francesco francesco riaprì la gelateria e continuò a vendere gelato ai gusti che tanto amava nocciola e limone fragola e cannella cioccolato e crema in tutti i formati e in che ordine non importa in ogni caso francesco sapeva che aveva compiuto qualcosa di più grande e più dolce di qualsiasi gelato avesse mai fatto in vita sua ma come è andata a finire ti chiederai peter è cresciuto ed è emigrato in israele ha studiato all'università dove ha poi insegnato e non ha mai dimenticato francesco non ha dimenticato neppure quanto sia importante aiutare il prossimo e che altro è successo ha sposato sara con cui ha avuto figli nipoti e pronipoti e chi l'avrebbe mai detto anche a loro piace tanto il gelato il momento più bello è quando vanno a comprare il gelato a gerusalemme con nonno isacco che da bambino abitava a budapest e si si chiamava peter grazie a tutti Epilogo Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1939-1945, la Germania, guidata dal dittatore Adolf Hitler, occupò diversi paesi europei. In ognuno di questi i nazisti diedero la caccia agli ebrei, macchiandosi del genocidio che è passato alla storia come olocausto. Molti provarono a scappare e qualcuno riuscì a nascondersi. Per fortuna, anche tra gli orrori della guerra, esistevano persone buone, nobili di cuore e coraggiosi non ebrei che misero a repentaglio la propria vita per aiutare i fuggiaschi. Queste persone sono chiamate giusti tra le nazioni. Francesco Tirelli è uno di loro Francesco Tirelli nacque in Italia nel 1898 e negli anni 30 si trasferì a Budapest, in Ungheria. Nel 1944, dopo l'arrivo dei nazisti, Tirelli aiutò gli ebrei, fuggiti dai villaggi nei dintorni della città, a cercare luoghi sicuri. Alcuni di essi trovarono riparo nel retro bottega della sua gelateria. Nel 2008, su richiesta di Isaac Peter Mayer, è stato dichiarato giusto tra le nazioni. Sono insigniti di questa onorificenza le donne e gli uomini non ebrei che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno salvato anche un solo ebreo dal genocidio. Il professor Isaac Peter Mayer nacque a Budapest nel 1927. Nel giugno del 1944, era nascosto in un villaggio vicino alla città, insieme ad altri ebrei. Durante l'inverno, quando il fronte russo si avvicinò al villaggio e i soldati ungheresi, filonazisti, occuparono la casa dove si nascondeva, tornò a Budapest, dove raggiunse i genitori Haim e Lili. Insieme ad altri 15 ebrei, la famiglia di Peter si nascose nella gelateria di Tirelli. Dopo la fine della guerra, Isacco è emigrato in Israele, dove successivamente è stato raggiunto dalla madre Lili. Ha studiato chimica ed è diventato professore presso la facoltà di chimica dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Ha sposato Sara, con cui ha avuto figli, nipoti e pronipoti. L'autrice di questo libro, Tamar Meir, è sua nuora. Tamar Meir è una studiosa israeliana di Talmud e filosofia ebraica. Questo suo primo libro per bambini ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti, il premio Yad Vashem e il premio Devorah Omer. I disegni sono di Yael Albert, un'artista molto apprezzata che vive e lavora a Tel Aviv. Joshua Kalman, figlio di ebrei ungheresi sopravvissuti all'olocausto, ha curato la traduzione italiana insieme a sua moglie Cesara Bonamici. Hi, ho scritto Francesco Torelli's Ice Cream Shop, e ho scritto questo libro in order to raccontare l'amai storia che i miei bambini grew up con. Questa è la storia del mio padre, che era in un'ice cream shop di Francesco Torelli in Budapest durante World War II. Questa è la sua vita, e ho chiesto di raccontare questa storia a tutti i miei bambini all over il mondo. Francesco Torelli was also thinking, I'm Italian, I don't need to be afraid. The Hungarians like me, but what will happen to my neighbors? What will happen to Peter's family? What will happen to other kids? Queños emoi in pray, che esche a chi, che esche a chi, ma andrele, Grazie a tutti. Grazie a tutti.